Il PIR Italia è il più grande evento dell'audiovisivo su scala internazionale, come dimostra il fatto che qui a Torino sono convenuti i rappresentanti di tutti i principali broadcasting dei grandi paesi e da ogni continente. Il PIR Italia è un evento che consente di consolidare e rafforzare ulteriormente il rapporto tra la RAI e il sistema audiovisivo e televisivo internazionale e rafforza e consolida il rapporto tra Torino e la RAI. Torino è una città che ha un rapporto con la RAI del tutto speciale perché la RAI è nata qui, perché la RAI qui ha il centro di produzione, ha il centro di ricerche, ha il centro amministrativo, ha l'orchestra sinfonica nazionale e ha il PIR Italia. Quindi è evidente che tutte queste attività multiformi che la RAI promuove e realizza nella nostra città sono parte essenziale di quel profilo di città di cultura che Torino è venuta dandosi soprattutto negli ultimi anni con un forte investimento culturale che la RAI ha accompagnato e ha sostenuto. Siamo per tutte queste ragioni molto felici di aver ospitato per la settima volta consenteutiva il PIR Italia e ci prepariamo a ospitare l'ottava edizione a Torino nel prossimo anno. Grazie mille.